Benvenuto nella sezione Conti di Segugio.it. Sei nel posto giusto per trovare il conto migliore per te. La sezione Conti di Segugio.it è gestita da Centro Finanziamenti SPA, intermediario finanziario appartenente allo stesso gruppo societario di Segugio.it e leader nella comparazione online dei conti bancari con il sito Confrontaconti.it, utilizzato ogni giorno da migliaia di persone per confrontare le migliori offerte di conti di deposito e di conti correnti di banche italiane ed estere. Utilizzare Segugio.it è semplice, veloce e conveniente. Compila il modulo di ricerca per il conto che ti interessa, ad esempio un conto deposito, ed avvia il confronto per vedere subito i preventivi. Segugio.it troverà per te le migliori offerte disponibili, con una ricerca personalizzata sulla base delle tue esigenze. I guadagni netti, i tassi effettivi, lordi e netti, le condizioni di svincolo e tutti i costi sono sempre indicati in modo chiaro e trasparente. Puoi filtrare le offerte secondo le caratteristiche che ti interessano, oppure modificando i parametri di ordinamento. Puoi anche modificare i dati della tua ricerca, per ripeterla quante volte vuoi, e vedere altre offerte. Con Segugio.it puoi così confrontare i conti in modo semplice ed avere subito un'idea chiara delle proposte migliori per te. Per approfondire, consulta anche la scheda prodotto di ogni conto, con le principali caratteristiche, il dettaglio completo delle voci di ricavo e di spesa del prodotto ed il foglio informativo. Ma i vantaggi di Segugio.it non finiscono qui. Una volta scelta l'offerta migliore per te, compila il semplice modulo online per avviare il processo di richiesta di apertura del conto direttamente con la banca prescelta. Il tutto gratuitamente e senza alcun impegno da parte tua. Sarai poi tu a decidere se completare l'apertura del conto, beneficiando dell'attenzione riservata alla nostra clientela e ottenendo, in molti casi, sconti e condizioni di favore. Segugio.it è controllata da Gruppo Mutui Online SPA, società quotata alla Borsa Italiana dal 2007, leader in Italia nel campo della comparazione multimarca e nell'intermediazione di prodotti di credito e assicurativi e principale riferimento di settore anche per i mezzi di informazione. Una garanzia di indipendenza, serietà e professionalità. Per trovare il conto bancario più conveniente ed idoneo alle tue esigenze, Segugio.it ti offre il servizio ideale per cercare, scegliere ed ottenere la soluzione migliore. Segugio.it, il miglior amico del risparmio.